buongiorno a tutti da rocco e ben ritrovati nel minuto innovativo di aster oggi vi presentiamo una soluzione intermedia dedicata al mondo educational e small medium office vi presentiamo la yama con android 9 il monitor giapponese monta a bordo una versione di android 9.0 sul quale sono installate le app funzionali all'utilizzo è presente un browser molto veloce è presente una white board dal quale addirittura si può esportare la sessione con un qr code e quindi trovarla disponibile sul proprio smartphone o tablet e tecnologia a infrarosso ed è anche piuttosto veloce quindi meglio di tante altre soluzioni sul mercato e va a posizionarsi in una fascia intermedia quindi dove c'è necessità di più interazione di più velocità nella sessione del meeting soluzione completa e funzionale ad un prezzo assolutamente accessibile disponibile nei tagli 55 65 75 e 86 pollici anche per oggi è tutto vi rimando al prossimo episodio del minuto innovativo di aster un caro saluto da rock